Un piano d'ampio respiro, quello presentato dal Presidente Zingaretti. La nuova rete della salute di Roma Capitale si focalizza sulla garanzia di una continuità assistenziale al cittadino, che coinvolga in prima battuta i medici di base. Saranno 18 i presidi attivi 10 ore al giorno nei weekend e in tutti i giorni festivi e prefessivi, e ben 5 le case della salute attive a Roma entro dicembre. A queste strutture, operanti in sinergia con la medicina generale, spetterà la presa in carico dei pazienti cronici diabetici, ipertesi, cardiologici e affetti da insufficienza respiratoria. Oggi abbiamo presentato al Sindaco, al Presidente dei Municipi, la nuova rete di cure della Capitale, che grazie al decreto sottoscritto alcuni giorni fa si sta cominciando a costruire. Questo prevede reti più efficienti di cura negli ospedali della città, ma soprattutto la costruzione di qualcosa che non c'era. 18 poliambulatori in tutti i municipi, aperti anche i sabbi della domenica, e cominceremo dal 1 dicembre all'apertura delle prime 5 case della salute, cioè un nuovo modo di rispondere alla domanda per la prima cura, senza l'obbligo di doversi rivolgere ad un ospedale che sarà finalizzato sempre più invece alle cure degli acuti. È uno sforzo reso possibile da un buon governo della spesa sanitaria che è sotto controllo e che va incontro alla domanda di buona medicina e buona salute che viene dai cittadini. Noi sappiamo che c'è tantissimo da fare, io ricordo che purtroppo noi non possiamo assumere perché c'è il blocco del turnover e non possiamo ancora stabilizzare i precari, ma correndo verso l'uscita dal commissariamento il nostro obiettivo è anche ovviamente quello di accompagnare queste innovazioni del servizio a processi di stabilizzazione e di ripresa delle assunzioni perché non possiamo lasciare una nuova generazione fuori dal sistema. Però intanto cominciamo a cambiare e questa volta insieme al Sindaco, insieme a Roma Capitale, a cambiare per migliorare i servizi ai cittadini che poi è l'ossessione, che malgrado i tagli che ci sono noi abbiamo tutti i giorni e cioè dimostrare che ci occupiamo delle grida di dolore che spesso vengono anche dal campo del diritto alla salute. Effetti positivi della ricaduta del piano salute su Roma, l'incremento della rete ospedaliere in vista del potenziamento del policlinico di Tor Vergata e dell'attivazione di un reparto d'avanguardia per l'oncoematologia al San Giovanni Addolorata. Verrà aumentata la dotazione posti per lungodegenza al CPO di Ostia. Il San Filippo Neri sarà trasformato in presidio ospedaliero dell'As Romae, mantenendo il ruolo di DEA primo livello, mentre l'emergenza sarà principalmente convogliata al Santo Spirito. Si è detto soddisfatto il Sindaco Marino. Direi un passo avanti importantissimo che va nella direzione giusta. Sino a oggi un signore anziano con il diabete che improvvisamente ha una tosse secca di sabato pomeriggio, di sabato notte, la domenica mattina l'unica possibilità di diagnosi e poi di cura che aveva era quella del pronto soccorso. Così anche un bambino neonato con la diarrea durante il weekend la mamma non ha altra alternativa che portarlo nel pronto soccorso. Questo cosa significa? Che in quel luogo che è evidentemente destinato ad accogliere le persone che hanno bisogno appunto di pronto soccorso, ad esempio una persona con un infarto, un'emorragia cerebrale o un incidente automobilistico, passano giustamente avanti a chi ha invece una malattia cronica o una malattia acuta che però può essere seguita e curata in un altro luogo e quindi si crea una lunga attesa e un lungo disagio. Con l'apertura di 18 poliambulatori nella nostra città, decisione che io ho fortemente sostenuto e voluto con il Presidente Zingaretti, e di 5 case della salute, il primo di dicembre a Piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Prati Trionfale ma poi anche in molti altri quartieri come Ostia, Prenestino, noi avremo la possibilità di offrire un'assistenza diversa alle cittadine e ai cittadini della nostra capitale. Innanzitutto un'assistenza più umana perché non saranno per malattie più lievi ma altrettanto importanti, costretti ad attese di ore e ore su una sedia di un pronto soccorso e poi anche un utilizzo migliore delle nostre risorse economiche perché evidentemente coloro che hanno bisogno di un'assistenza ambulatoriale andranno in un luogo specifico e coloro che invece hanno bisogno della tecnologia di un grande ospedale o di un grande pronto soccorso andranno in quei luoghi e non dovranno essere in competizione con centinaia di pazienti che invece possono essere assistiti molto bene altrove.